Diminuiscono gli infortuni sul lavoro ma aumentano le denunce di malattie professionali. Come ogni anno, Cisla Romagna ha diffusi dati raccolti dall'Osservatorio sul Lavoro dedicati ai primi dieci mesi del 2023. Si riducono gli infortuni sul lavoro denunciati ma rimangono comunque criticità. In Emilia Romagna si è registrato un calo del 6,21% negli infortuni denunciati con un totale di 64.546 casi. I numeri rimangono comunque elevati. A Ravenna le denunce di infortuni sono diminuite del 4,85% raggiungendo la quota di 5.732 casi. Qualche decine in meno rispetto a Forlì che ha registrato 5.791 incidenti con un calo del 3,61%. Va meglio a Rimini, 4.303 denunce ma un calo solo del 2,49%. Lo scorso anno a Ravenna su 12 mensilità vennero calcolati oltre 7.000 infortuni con un trend sempre in crescita negli ultimi anni. Troppo alti ancora i morti sul lavoro, 77 in tutta la regione, più 6,94%. Nove nei primi dieci mesi dell'anno a Ravenna, quasi un incidente mortale al mese. Al momento uno in meno rispetto allo scorso anno quando il 2023 si chiuse con ben 15 decessi. Nella provincia di Forlì Cesena sono già 13 le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano. A Rimini solo due. Un ulteriore motivo di allarme per il sindacato è rappresentato dalle malattie professionali che richiedono una maggiore attenzione e intervento. A Rimini l'aumento è ridotto al 4,40%. Nei territori di Forlì Cesena però l'incremento è del 24,91%. A Ravenna invece si segnala un drastico calo, meno 39,61%. Proprio di fronte agli ancora troppi morti sul lavoro, Cisla Romagna chiede una riflessione da parte di tutte le parti coinvolte, dalle aziende alle istituzioni. Secondo il sindacato, i lavoratori dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella definizione delle politiche di sicurezza, sfruttando la loro esperienza per identificare rischi specifici, analizzando gli errori nei vari processi produttivi senza paura di ritorsioni, facilitando così la definizione di soluzioni preventive più efficaci, considerando quindi gli errori alla stregua di opportunità di apprendimento. Cisla Romagna chiede inoltre di investire sulla formazione con un processo continuo, aumentando così anche la consapevolezza dei lavoratori e promuovendo i comportamenti responsabili, creando alla fine del percorso una vera e propria cultura della sicurezza.